buongiorno amiche ye 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 oggi è sabato e sono super super felice e voi direte di che cosa? di essermi svegliata amiche mie mi sono svegliata in orario come sempre e sono contenta perché se rimango lì a poltrire poi mi viene mal di testa da bora e gonca amiche quindi ce l'ho fatta e so che non avrò mal di testa e stare bene fisicamente per me è super mega importante quindi amiche skinker insieme fascetta uovo di pasqua perché ormai la pasqua è nell'aria e quindi questa bellissima fascetta skinker che avevamo unboxato un paio di giorni fa ha un fiocco letteralmente pazzesco gigante ed è un uovo di pasqua mi sento veramente un uovo di pasqua ma è molto molto carino come sempre abbiamo applicato d'artagnan e i moschettieri del re che ci hanno fatto una super compagnia nella skinker quotidiana i prodotti di lancome il tonic comfort, l'advanced genifique, la crema contorno occhi e la crema viso e nelle labbra applichiamo questo magnifico lip care di Catrice Powerful con acido ialuronico, watermelon, amiche un sacco di cose che io non so dire cucumber e ginger rot comunque buonissimo super mega profumato di Catrice nel collo come sempre la crema, la crema di Clarence e nelle mannine oggi amiche una coccola, la melagrana bio la crema a mani e unghie con estratto di melagrana bio della bioteca italiana delicatamente profumata ma come sempre amiche, geni, pini, brufolini e gli occhiaie da pandina noi insieme le contrastiamo con il correttore il fondotinta, sia amiche noiosa la parte make-up in cui facciamo la base me ne rendo conto è ancora più noiosa ecco la mia canzone che vi tedia tutte le mattine ma amiche mi serve una botta di energia di vita e di allegria perché se no mi incidromo amiche mi addormento quando faccio la base letteralmente però oggi devo dire che con la palette concealer corrector contour di NYX sono super felice so che uscirà un make-up molto molto carino o almeno spero abbiamo utilizzato quello marrone nelle occhiaie poi il begiolino e il pesca per correggere un attimo le discromie e ora con la beauty blender morbidissima applichiamo il bourgeois 1,2,3 perfect e poi andiamo a sfumare anche il fondotinta accord perfect di L'Oreal veramente veramente pazzeschi questi due fondotinta in combo mi piacciono tantissimo amo sfumare un fondotinta un po' più scuro assieme a uno più chiaro perché non mi piace avere la faccia amiche di un unico colore quindi ne metto uno più scuro in alcuni punti e uno più chiaro in altri per scolpire andare a sfumare nel collo lo trovo molto molto carino riproviamo perché mi è piaciuto tantissimo il bronzel colori con di wet and wild in colorazione E740A e proviamo per la prima volta il my skin powder la cipre uniformante di Bella Oggi che ho preso in offerta al Tivota a soli 2,90 euro in colorazione 04 my skin powder sunset touch molto bella all'interno c'è la spugnetta che noi amiche non utilizziamo perché io non amo particolarmente i power puff mi pare si chiamino così le spugnette ma amo tantissimo i pennelli ampi morbidi e quindi utilizzo quelli diciamo che ho messo la cipria di Bella Oggi sui contorni del viso e sugli occhi e invece nelle guanciotte amiche ho applicato il bronzer al posto della cipria e riutilizziamo anche il blush crush di essence in colorazione 40 strawberry flush molto bello l'effetto di questo blush e di questo bronzer mi fa letteralmente impazzire li ho pagati pochissimo su Amazon ma 3,2,1 voilà evviva amiche proviamo l'ultimate vintage jean baby di NYX Professional Makeup e sempre il nostro amico scotch di carta ci aiuta a non sporcare la parte esterna degli occhi bellissima questa palette così dolce così carina così sognante e così scrivente avete visto che pigmento però io mi sono sbagliata amiche uffa dovevo applicare prima di tutto la base occhi illuminante fissante di Kiko e stavo già applicando l'ombretto quindi applichiamo la base occhi di Kiko e poi l'ombretto è super pigmentata questa palette il bianco è veramente coprente ma non è un bianco diciamo troppo gesso ma è un bianco molto luminoso bellissimo letteralmente pazzesco poi con un pennellino dalla punta arrotondata applichiamo questo bellissimo marroncino molto molto intenso veramente bello mi ricordo il marrone che utilizziamo nella palette di Bella Oggi e con un pennellino piatto piccolino e tondo andiamo a creare il nostro make up grafico e quindi l'ho preso mica poco poco col pennellino piccolo sempre il marrone e col dito applichiamo il bianco perlescente guardate che roba è luce pura scrive tantissimo pazzesco oggi abbiamo provato solo due colori di questa palette e lo applico un pochino l'ho applicato anche sulla parte alta delle sopracciglia guardate che carino abbiamo staccato lo scotch di carta e direi che il make up grafico risulta molto molto delineato come sempre un pochino di eyeliner perché mi piace tantissimo non riesco a rinunciare all'eyeliner lo trovo molto molto bello segnare sempre la parte finale dei look grafici che realizzo con gli ombretti quindi l'eyeliner di Anglicolor che per me è stato super economico e lo sto riscontrando molto durevole nel tempo mi piace tanto come mascara amiche applichiamo questa meraviglia che è il max hit di Catrice volume e lunghezza mi piace molto e lo applico solo nella parte esterna degli occhi devo dire che lo sguardo con questo make up occhi risulta molto antipatico secondo me perché da un'area un'area amiche tipo non mi toccate che mi cagate oppure anche tipo puzzivuzzi non lo so un po snob devo dire che a me piacciono tantissimo i look grafici però secondo me non mi stanno bene mi fanno un'area un'aria un'aria amiche non riesco neanche a dirlo più antipatica di quella che già ho in di natura voi cosa ne pensate siete d'accordo con me mi dà un'aria antipatica questo look io amo però provarli sapete che anche se mi danno un'area un'aria veramente brutta sono sempre io però ma ci tenevo a provarli se no con questa scusa nel canale qua non proviamo mai i look grafici invece secondo me sono molto carini ecco però su di me non stanno bene mi stanno veramente male secondo me magari invece su di voi staranno benissimo vi daranno un'aria sofisticata particolare invece su di me sembro solo antipatica amiche comunque l'ho provato lo utilizzerò comunque tutto il giorno e quindi abbiamo realizzato già anche il secondo occhio manca l'eyeliner e il mascara il gioco è fatto io sono super curiosa amiche cosa ne pensate del make up antipatico di oggi spero che comunque vi piacerà quest'idea soprattutto dei due colori bianco purissimo e un marrone scuro quasi nero e volevo dirvi anche che ho applicato il mascara solo nella parte esterna dell'occhio per risultare ancora diciamo più allungato l'occhio ma anche antipatico e applichiamo come sempre un brillocco amiche uno strassino che secondo me bianco ci sta molto bene uno strass niente di trascendentale uno semplice strass e come rossetto utilizziamo il bella oggi color raffer nude in colorazione 0 2 ed è molto molto carino guardate che bello questo nude è un po' scuro ma è veramente molto bello mi piace e lo trovo super confortevole sono curiosa amiche di sapere cosa ne pensate di questo look di oggi il look antipatico make up antipatico spero che vi piacerà come sempre se vi va amiche commentate fatemi sapere tutto quello che volete come state oggi spero che stiate bene e se vi è piaciuto questo look io super curiosa come sempre oggi amiche è un sabato dedicato come sempre alla spesa alla famiglia e alle pulizie per quanto mi riguarda quindi mi toccherà come sempre lottare contro la lavatrice ma amiche questa è la vita la mia vita ed è così che è giusto che sia che deve andare io come sempre vi mando un bacio grande 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 ci sentiamo nei commenti e ci vediamo nel video del pomeriggio un bacio amiche a dopo corro a pulire la casa